Giulia si chef mi esplode un vulcano nello stomaco più un'energia che parte da qua arriva fino al cervello non capisco più niente rimango paralizzata davanti a loro tu avevi in mente un bel piatto la tua salsa completava il tuo po le patate con una lava di colore unica faceva il piatto quella salsa giusto spero di sì e ma Giulia tu la salsa non l'hai messa si chef lo so lo chef barbieri ha detto no e anche giorgio locatelli è molto scontento del tuo lavoro è per lui se fuori ok grazie della possibilità vai Giulia calma quindi cosa devo fare vado Giulia io ho visto oltre all'esecuzione del piatto e quindi ho deciso di mettere la firma sul tuo crempiola e portarti alla prova finale grazie grazie Giulia tu hai un'altra occasione per convincerci tutti e tre ok sì lo farò ci metterò nel mio meglio grazie chef grazie grazie lì sopra è la mia firma per diventare il crempiola ufficiale quella firma là deve sparire deve restare solo il tuo nome Giulia perché vuol dire che hai convinto tutte e tre ok 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 adesso vuola scappa adesso grazie 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 a tutti.